questo video è sponsorizzato da orio orio un programma per aumentare le performance del proprio pc grazie a questo programma è possibile pulire i propri file inutili i propri file temporanei e anche pulire la memoria ram utilizzata in eccesso il programma è compatibile per windows 10 8.1 windows 7 vista xp nella versione sia 32 bit che 64 bit troverete il link del programma in descrizione bene amici tutto hardware e phones sicuramente avrete attivato le opzioni sviluppatore di android per chi non lo sa le opzioni dello sviluppatore sono quelle opzioni che servono appunto agli sviluppatori sicuramente le avrete attivate però non sapete magari come disattivarle e quindi come di nascondere il tab nelle menu delle impostazioni chiamato opzioni sviluppatore in questo video vedremo come nascondere questo menu e quindi disabilitarlo l'operazione è molto semplice per prima cosa arrechiamoci nelle impostazioni di android poi applicazioni oppure app o gestione applicazioni da lì vedremo la lista di tutte le nostre applicazioni installate se avete un android nella versione 6 oppure più vecchia dovete selezionare anziché tutte le app dovete mostrare nell'angolo in alto a destra la spunta su mostra applicazioni di sistema per mostrare così tutte le applicazioni sia quelle installate e sia quelle del sistema operativo che sono preinstallate su android scorriamo sotto fino a quando troveremo l'applicazione di sistema che si chiama impostazioni appunto non è un gioco di parole clicchiamo sull'app impostazioni e reghiamoci nel tab nella sezione chiamata memoria o archiviazione nel mio caso si chiama memoria cliccate su memoria e troverete in particolare due tab la primo è cancella dati e secondo è cancella cache dobbiamo cliccare prima su cancella cache e poi su una volta cancellata la cache clicchiamo su cancella dati ci chiederà che tutti i dati compresi database e tanti altri tipi di dati verranno cancellati una volta fatto clicchiamo con ok e se per caso tornate all'improvviso alla home state tranquilli non vi preoccupate una volta fatto tornate di nuovo nelle impostazioni e vedrete che le opzioni di sviluppatore non saranno più visibili nelle impostazioni quindi non troverete più il tab opzioni sviluppatore all'interno delle impostazioni se volete poi eventualmente riattivare le opzioni dello sviluppatore entrate di nuovo nelle impostazioni andate su info sul telefono o informazioni sul telefono e da lì dovete cliccare nella spunta numero build la dovete premere ripetutamente per 5 volte e vi compariranno nuovamente una volta premuto per 5 volte il numero di build vi dirà che siete degli sviluppatori e quindi troverete nuovamente il tab delle opzioni di sviluppatore sulle impostazioni di android questa guida molto semplice e basilare termina qui spero che il video vi sia stato utile per qualsiasi domanda lasciatemi al solito un commento qua sotto e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video un saluto a tutti